radio cool è la radio che non ascolterete mai in radio tutti quanti mi raccomando non dimenticate iscrivetevi al canale youtube e ditelo voi ufficiale ci saranno nuovi personaggi saranno nuove trasmissioni ci saranno tanta roba da vedere tante cose insomma sei ridicolo lello io sono ridicolo ma non sei ridicolo tu questo pavillone secondo te stiamo pronti con